Musica Cari telespettatori di Fano TV, benvenuti in questo spazio di approfondimento che oggi dedicheremo al Paglio delle Contrade, l'evento organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia, giunto alla sesta edizione. Do subito il benvenuto al presidente del gruppo, Fabio Fratesi. Buonasera Fabio. Buonasera Simone, grazie, grazie. Tante le cose da raccontare di questa rievocazione storica, visto il ricco programma, ma partiamo dalle novità, innanzitutto dalla data, un anticipo di tre mesi. Sì, abbiamo deciso di anticipare l'evento di tre mesi, non perché lo scorso anno ha piovuto e ci ha rovinato un po', perché poi comunque l'acqua si può prendere sempre, ma perché abbiamo deciso di far sì che questo evento sia l'evento che apre l'estate, sia per noi che possiamo dedicarci in un periodo un po' più calmo per noi, e quindi senza uscite, senza spettacoli, perché noi comunque come associazione facciamo diversi spettacoli durante l'estate in tutta Italia, e poi soprattutto dar modo alla città di potersi concentrare prima al nostro evento, prima di tutti gli altri eventi che poi coinvolgono la città e i quartieri. Confermata la Rocca Malatestiana? Confermatissima la Rocca Malatestiana, lo scorso anno è stato un successo, l'ambiente è il suo ambiente naturale, e voglio sottolinearlo, lo dico tutte le volte, piano piano, qualcuno mi dice che avrò anche stancato, ma non siamo andati alla Rocca perché volevamo fare un dispetto ai residenti di Ponte Metauro, anzi, quel luogo per noi è veramente radicato nel cuore, tanto più che domenica abbiamo già benedetto il paglio all'interno di quel santuario, ma per vari motivi tecnici e di sicurezza abbiamo deciso di fare questo salto perché avevamo bisogno. In più la cornice, era bellissima la pineta, la cornice della Rocca è altrettanto bella, e poi se si chiama Rocca Malatestiana vuol dire che... Siete tornati a casa, diciamo così. Insomma, tante le iniziative, gli eventi collaterali in programma, guardate qua, e cominciamo con quelli che si sono già svolti. Sì, il primo, allora, il paglio delle contrate non è soltanto una festa, come magari qualche volta si pensi, soltanto una festa folcloristica, ma anzi il paglio delle contrate ha una ricerca storica, vuole raccontare un periodo storico della città, quindi non lo vuol fare soltanto con spettacoli e cose varie, ma lo fa tramite una ricerca storica, tramite dei convegni e tramite delle cose. Quindi c'è stato giovedì 6 giugno un convegno internazionale organizzato dal Centro Studi Malatestiani della città di Fano, con la dottoressa Anna Falcioni, che è anche la nostra consulente storica, dove sono alla sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio, ed è andato benissimo, è stato un successo presentare i 113 codici che sono nella nostra città, è un tesoro che noi fanesi dobbiamo riscoprire e proporli, perché poi quando vengono gente da fuori questa cosa è molto ricercata ed è molto preziosa, forse noi non ce ne rendiamo nemmeno conto del tesoro che abbiamo in casa. E poi anche una visita guidata. C'è stata domenica una visita guidata, sì, è organizzata da Manuela Palmucci, è andata bene, è molto successo, anzi ieri ci siamo sentiti con Manuela e pensiamo di farne altre lungo anche gli altri mesi, quindi luglio, agosto, di organizzarne qualche altra, perché comunque anche l'esperienza di fare una visita guidata con noi figuranti e fare una degustazione di prodotti medievali non è una cosa da tutti i giorni. Passiamo a questa settimana, intanto domani, martedì, che cosa ci sarà? Martedì ci sarà l'evento iniziale che dà inizio ai giochi, che dà inizio a tutto quello che è il palio delle contradi, quindi ci sarà un momento particolare che sarà l'arrivo del nostro signore Pandolfo III alla Darsena Borghese, quindi la Darsena, nel discorso che facevo prima, ricerca storica, la Darsena era il primo porto della città di Fano, costruito in epoca medievale, quindi alla Darsena arriverà il nostro signore Pandolfo III in barca, da lì proseguiremo, torneremo in piazza, dove ogni contrada accenderà una torcia con i suoi colori che simbolizza già l'inizio dei giochi, quindi è un evento nuovo che vogliamo mettere al centro per far sì che, già in questi giorni si stanno iniziando a vedere degli addobbi in città, quindi tante cose che si muovono nelle contradi, diamo ufficialmente inizio alla settimana medievale con questo rito che annuncerà alla città, una l'evento centrale che è il matrimonio di Pandolfo III e Paola Bianca che si svolgerà nel programma sabato e in più diamo inizio ai giochi con l'accensione di queste famose torce, poi non dico di più perché se no è fatto... Svegliamo tutto, però anche noi di Fano TV ci saremo e realizzeremo uno speciale televisivo che poi trasmetteremo proprio nei prossimi giorni. Altre novità perché è un evento che cresce tantissimo di anno in anno, mercoledì e giovedì andrà in scena un importante spettacolo all'ex Chiesa San Francesco. Sì, sì, è un importante spettacolo perché lo spettacolo si chiama Malatesta, è uno spettacolo che vede in scena dieci attori professionisti, questo spettacolo è una produzione del Teatro Galli di Rimini, ha fatto 40 repliche da 100 persone ogni volta ed è uno spettacolo che si chiama Malatesta perché è preso da uno scritto di Monterland. Monterland è un francese al pari di Pirandello in Italia, si potrebbe dire, che ha scritto questo commedia teatrale e questa compagnia l'ha liberamente rientrepetata e la porta in scena. È uno spettacolo molto bello perché, per anticipare poche cose, perché poi non ve lo togliere, c'è una bellissima storia d'amore che viene raccontata tra Sigismondo e Giotta ed è un fuoritempo teatrale. Quindi noi della Pondolfaccia quando l'abbiamo vista siamo andati a Rimini, l'abbiamo vista e ci siamo innamorati. E quindi su questo dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione che a tutti i costi ha voluto che questo spettacolo si facesse. E quindi portiamo in scena, tra l'altro portiamo in scena San Francesco, che è l'ex chiesa che vede la tomba del Babbo di Sigismondo. Quindi quella tomba fu realizzata da, la tomba di Pondolfo fu realizzata da Sigismondo. Quindi l'ambiente è suggestivo perché San Francesco è suggestivo. I posti sono 150 per ogni spettacolo, capite? Di cittori 150 persone di pubblico. Lì perché proprio c'è un numero chiuso, no? Quindi sono proprio posti limitati. Ma è ancora possibile comprare i biglietti? Ci sono ancora dei biglietti, è possibile acquistarli sia domani fino al giorno al botteghino del teatro ed è possibile acquistarli fino alle ore 20 di ogni spettacolo al botteghino del teatro, poi dalle 20.15 davanti a San Francesco. È chiaro che prima li andate a acquistare, prima vi assicurate il posto perché, ripeto, purtroppo abbiamo soltanto 300 posti in due serate. Questo quindi è mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, poi da venerdì si entra nel clou della manifestazione. Venerdì si entra nel clou del palio delle contrade, quindi si parte con il programma. La prima giornata l'abbiamo intitolata Festa delle Contrade perché comunque tutti gli anni abbiamo voluto dare una serata in cui la contrada comunque è un po' più tranquilla perché per quanto vengono comunque svolti i giochi, perché quella sera ci sarà la discredita degli arcieri, magari lo riracconto perché magari negli anni questi passaggi noi li diamo per scontati ma vengono persi. Come si fa a vincere il palio? Il palio si vince vincendo una serie di giochi, cioè non è un gioco soltanto che dà il premio, quindi non è soltanto la corsa dei cavalli, il gioco, l'esibizione equestre, che dà l'assignazione del palio, ma è la somma di tutti i giochi che vengono fatti all'interno del palio, quindi il vario tiro da fune e un gioco che dà punti è la gara degli arcieri che viene fatta venerdì sera. Quindi il centro sono loro della sfida, praticamente gli arcieri di Fanno, dell'Iocorno Dragato di Fanno, è un'associazione che è nata da qualche anno e che collabora con noi e sono arcieri storici, organizzano all'interno del nostro programma questa cosa e vengono divisi per le contrade e chi fa più punti, chi prende più centri, dà punti poi alla contrada. Vogliamo ricordare anche quali sono queste quattro contrade perché dallo scorso anno sono stati cambiati anche i nomi grazie ad una ricerca storica. Sì, dobbiamo ringraziare sempre la dottoressa Anna Falcioni che ci corregge, ci aggiusta il tiro e ci dà tutta la consulenza storica che serve per costruire questo apparato. Le contrade si chiamano San Francesco, Porta Nuova, Castel dei Mammoli e Vescovado. In verità erano quattro quartieri nel 1400 ma l'abbiamo lasciato il nome di contrada per il semplice fatto di comodità. Erano quattro quartieri del centro storico di Fano che poi vengono, noi, nella piantina suddivide l'attuale città di Fano. Esatto, con i colori che poi vediamo anche alle tue spalle. Torniamo al programma di venerdì perché poi ci sarà anche uno spettacolo, anzi più spettacoli. Sì, ci saranno tanti spettacoli da venerdì. Abbiamo visto già lo scorso anno che tante persone vengono al paio già dal venerdì e quindi tutto l'apparato scenografico sarà in piedi. Quindi avremo già gli arcieri, avremo già gli arcieri, avremo il falconiere, avremo giochi per bambini, avremo tantissime cose. Il villaggio partirà al completo già dal venerdì sera. In più, come ogni anno, ci saranno tutti i nostri spettacoli di tanti altri gruppi ospiti. E per chi non c'era lo scorso anno, all'interno della Rocca ci saranno tre aree spettacoli. Quindi quando voi entrerete, avrete la piantina con tutte le aree spettacoli e potrete decidere che spettacolo vedere perché poi gli spettacoli vengono ripetuti in diversi orari in più piazze. Poi c'è la piazza centrale che è il parcheggio di Viale Ceccarini che si chiama Cassero dei Maratesti, l'abbiamo intitolato, dove lì vengono svolti tutti i giochi. C'è il palco dei nobili e ci sarà la disfida, dicevamo, degli arcieri, lo spettacolo di falconeria per dare alcuni accenni e lo spettacolo delle nostre fiamme danzanti che è un gruppo all'interno della Pondolfaccia che fa spettacoli col fuoco che si chiama La Notte di Valpurga. In conferenza stampa mi hanno chiesto il significato e le ragazze me l'hanno spiegato essenzialmente. È uno spettacolo che parla di prosperità, quindi è anche una speranza per noi. Poi, essendo la serata di festeggiamento, delle contrade, ci sarà il concerto medievale degli Arabundi Musici, che è un gruppo medievale che gira tutta Italia e ci farà un concerto nell'area antistante alla Rocca per poter festeggiare insieme all'inizio del palio. E passiamo alla giornata del sabato. Il sabato si svolge il clou della manifestazione. Il clou della manifestazione è la rievocazione storica del matrimonio di Pandolfo III e Paola Bianca. Lo scorso anno non siamo riusciti a metterlo in scena, a rievocarlo. Per questioni di maltempo. Per questioni di maltempo. Eravamo prontissimi, le spose, le damigelle. Era tutto pronto. E anche su questo, lo ridico per l'ennesima volta, però dietro il lavoro che c'è stato è tanto, sia di ricerca che di studio, che di messa in atto. Quindi dovevo ringraziare veramente la professoressa Anna Falcioni che ci ha passato tutti i testi, dovevo ringraziare Leandro Castellani e Aldo che ci hanno dato una mano nella parte invece di messa in scena della... Quindi sono una ricerca storica molto importante. Molto, molto. Anche perché, ripeto, avremmo potuto far... Chiamato Padio delle Contrade e poi decidere di fare semplicemente la parte... Folcloristica, basta. Invece non è così. Non è così, no. È chiaro che la parte folcloristica deve andare a braccetto con la parte di ricerca, perché se no non ha senso se la ricerca non viene calata alle persone e non siamo capaci di raccontare i 113 codici che abbiamo, è inutile che rimane questa cosa negli uffici o negli archivi, ma dobbiamo essere bravi a dirlo tutti. Quindi noi cerchiamo di tradurre quello che è scritto nei libri e comunicarlo alle persone. Questo è il nostro fine, soprattutto nelle città di Fano, in cui siamo ricchi di reperti medievali e tanti segni sono rimasti dalla dominazione malatestiana. Assolutamente. Il Pincio è stato l'ultima riprova. Esatto. Il Pincio è bellissimo. Se pensiamo a Porta Maggiore, che era la porta d'ingresso della città di epoca malatestiana, il bastione successivo, però... Cioè, ci sono tante cose di epoca malatestiana. Penso alla chiesa di San Francesco, penso al teatro che era il municipio, la corte. Cioè, siamo pieni di queste cose che sono il nostro gioiello e vanno insieme... Secondo me, adesso faccio una nota fuori paglio, però vanno a costruire una parentesi importante di promozione della città. Penso che dobbiamo ringraziare anche questo periodo perché ci fa essere famosi e importanti in tutta Italia. Penso, ripeto, riparto dall'esperienza del convegno che abbiamo vissuto giovedì. Da tutta Italia ci fanno i complimenti per quello che abbiamo. Cioè, semplicemente avere la tomba di Pandolfo Terzo, che magari per noi ci passiamo davanti, non ci rendiamo nemmeno conto del patrimonio, che c'è lì dentro. Adesso faccio la scoperta del farsetto di Pandolfo Terzo. È stata una scoperta che è stata avvenuta a Fano ed è stata riportata in tutto il mondo. Quindi quando noi fanesi andiamo alle fiere dove si può comprare il materiale rievocativo per ricostruzione, adesso vendono i farsetti di Pandolfo Terzo. Quindi noi non ci rendiamo conto di quanto la moda, per dire la moda dell'epoca medievale, si può raccontare dalla città di Fano. Noi nemmeno se ne rendiamo conto del tesoro su cui stiamo dormendo. È vero. Scusate. Dicevamo, ripartiamo dal sabato, quindi da questo importante appuntamento. Che sarà alle ore? Sarà alle ore 19.30, davanti al Sagrato del Duomo. Sarà un bellissimo momento, non vi voglio anticipare più di tanto, ma è chiaro che il matrimonio medievale era un rito pubblico, quindi essenzialmente davanti al Sagrato del Duomo verrà svolto questo matrimonio. Dobbiamo ringraziare, l'abbiamo già fatto lo scorso anno, ma lo ricordiamo, l'oro di Babette che ha realizzato la ricostruzione dell'anello, che è una ricostruzione anche quella filologica, dico dell'anello perché comunque uno pensa a un matrimonio di oggi, c'è lo scambio degli anelli, invece l'anello qui sarà uno, ci saranno delle damigelle, ci saranno tante cose che vi invitiamo a venire a vedere perché è veramente bello. Poi speriamo che riusciamo a ricostruirlo per come lo stiamo provando e come ce lo stiamo immaginando. E poi già alla Rocca comunque partiranno le taverne, partirà tutta l'area con tutte le rievocazioni storiche, il sabato arriverà anche un teatro di burattini per i bambini, ci saranno già dal venerdì 30 antichi mestieri che faranno vivere quell'ambiente in maniera molto rievocativa, antichi mestieri che ricostruiscono dal fabbro, il falegname, quindi tutta l'area verrà vissuta in maniera medievale. E poi giochi. E poi alle ore 21 ripartono tutte le altre sfide insieme a tanti altri spettacoli. E alle 22.30 concludiamo poi dopo tutti i giochi con uno spettacolo nuovo, inedito, creato dai nostri ragazzi, sbandiratori, che si chiama Orfeo Doridice. Lo spettacolo è realizzato dai nostri sbandiratori ed è chiamato Teatro della Bandiera. Uno può pensare cosa vuol dire la bandiera con il teatro e essenzialmente con il nostro tipo di sbandirata si può fare anche spettacoli. Quindi, lo dico in battuta velocemente, un ragazzo che è il nostro sbandiratore partirà per il Sigl sull'Air da fine giugno per due mesi per fare spettacoli, viene stato ingaggiato dal Sigl per fare spettacoli con la bandiera. Poi ricordiamo anche che c'è stata un'apparata importante che si è svolta proprio qua nella nostra provincia. Sì, abbiamo accolto 700 sbandiratori, quindi siamo diventati un riferimento anche grazie alla Lega Tenere Sbandiratori che ha molta fiducia della nostra associazione. L'altra cosa che mi dimenticavo, se no qualcuno della mia associazione mi picchia, perché tutti ci stiamo impegnando per creare tutti gli spettacoli. Logicamente, all'inizio dei giochi, visto che arriviamo dal matrimonio, ci sarà un ballo organizzato dalla Corte in onore del matrimonio. Le contrade porteranno un omaggio e ci sarà un premio, porteranno un omaggio ai neosposi e così partirà la serata poi con tutti i giochi delle contrade. Davvero suggestivo. La domenica invece si parte dal mattino. La domenica si parte dal mattino. Quest'anno abbiamo, grazie sempre agli arcieri del Leocorno Dragato, ospiteremo la gara FITAS, quindi tantissimi arcieri da tutta Italia verranno a Fano per disputare una tappa del loro campionato. Quindi dalla mattina vi invitiamo a venire a vedere questa gara che è veramente bella e arricchisce il programma del Palio delle Contrade. Devo ringraziare il Presidente Emilio, e devo ringraziare tutti quelli che hanno deciso di coinvolgliare questa ricchezza all'interno del nostro Palio. E il pomeriggio? Il pomeriggio ci sono altre due grandi novità. Uno, che alle ore 16 partirà un corteo dal Piazza 20 Settembre, si dirigirà verso, noi abbiamo soprannominato il campaccio, cioè la zona campo da rugby, dove verrà svolta lì la giostra equestra, l'esibizione di giostra l'anello e il nuovo gioco che si chiama Gioco alla palla. È un gioco nuovo che giocano dieci persone in contemporaneo di ogni contrada, che devono fare tipo calcio fiorentino, però senza farsi male. C'è un calcio fiorentino un po' più... Meno irruento. Un po' più leggero. Un po' meno irruento. Però è bello da vedere, è molto... E l'invito è venire a fare il tifo per le vostre contrade, quindi tutti quelli che ci stanno guardando, potete vedere il nostro sito, potete trovare il materiale, poi vedete anche i colori sparsi nella città, capire di che contrada state facendo, di che contrada fate parte, e farne il tifo all'interno del Palio delle Contrade. Nel frattempo, mentre al campaccio si svolgono i giochi, che comunque la Rocca, dalle ore 18.30 riparte, tutto il villaggio, gli stand gastronomici, ci saranno gli amici di Mondolfo che verranno a cucinare tantissime cose buone, ci sarà la possibilità di degustare prodotti medievali, come l'ipocrasto, l'idromele, quindi vi invitiamo per tre giorni a venire a respirare l'aria del Medioevo della città di Fano. Speriamo che quello che noi portiamo in Scena vi piaccia, noi ce la mettiamo tutta, siamo in una situazione di 150 persone, che cerchiamo di, ci impegniamo, perché comunque anche la città apprezzi questo tesoro che ha nelle mani. Noi lo portiamo in giro per quasi 60 giorni all'anno in tutta l'Italia, il nome di Fano, e da sei anni siamo stati forse pazzi per portare avanti questa avventura, e siamo partiti con questa avventura e ormai ci lavoriamo, finiamo a giugno e a metà giugno ripartiamo, cioè finito il Paglio, e ripartiamo per il prossimo anno. C'è anche un altro spettacolo importante domenica sera, giusto? Si conclude in bellezza. Sì, abbiamo, come abbiamo detto, il centro del Paglio è il matrimonio di Paola Bianca e Pandolfo Terzo, quindi al momento lo scorso anno abbiamo pensato per rimettere in risalto un'altra parte del gruppo che è il settore degli armati, che è il primo gruppo della Pandolfaccia, che però quest'anno farà altre cose, quindi durante lo spettacolo farà comunque spettacoli, non ci sarà una battaglia, ma non ci sarà un piccolo spettacolo pirotecnico in onore dei neosposi per festeggiare il loro matrimonio e soprattutto festeggiare anche la contrada vincente, quindi finiremo con questo piccolo spettacolo pirotecnico che speriamo che vi piaccia, noi ce la stiamo mettendo tutta, poi dopo attendiamo i vostri commenti. Si fa comunque ancora in tempo per partecipare nelle varie contrade, ci sono dei responsabili. Su internet, nella nostra pagina social, nella nostra pagina internet, si trovano tutti i riferimenti di tutti i contradi, anche in tutto il materiale pubblicitario che si trova in tutta la città, è possibile ancora partecipare, le contrade, la battuta è che più siamo, più ci divertiamo, più siamo, più potete fare il tifo per la vostra contrada. Io vedo che in questi giorni anche nella pagina social, parecchie persone stanno chiedendo come è possibile fare per poter partecipare, quindi tutto sta andando nel verso che noi auspicavamo. Esatto, ma tutti, devo dire tanti, da quante persone, quanti soci è composta la Pandolfaccia? La Pandolfaccia è composta da 150 soci, se non ci fossero questi 150 soci non sarebbe possibile realizzare tutto quello che noi, che leggete nei volantini. Perché c'è un grande lavoro, non soltanto quello ovviamente che vedete poi durante i vari spettacoli. No, c'è tutto il lavoro di preparazione, c'è tutto il lavoro di allestimento, c'è tutto il lavoro di organizzazione, è una macchina, che non si ferma mai, non possiamo dire Fabio. Che non si ferma mai, è una macchina che è veramente grande, è un grande evento ed è una macchina che però a noi poi piace organizzare e soprattutto piace quando poi alla fine del paglio ci fate i complimenti, ci dite bravi, quello è il nostro stipendio. Io sono uno e dietro di me rappresento le 150 persone che poi mi aiutano a realizzare tutto questo. Quindi mi raccomando, seguite il sito internet, seguite la pagina Facebook, vedete sotto in sovrimpressione tutti i riferimenti e non perdetevi questa sesta edizione del Paglio delle Contrade. Grazie al Presidente del Gruppo Storico della Pandolfaccia, Fabio Frattesi e noi siamo pronti per farvi fare un vero tuffo nel passato, mi raccomando, domenica sera, quindi la giornata conclusiva di questo paglio, noi saremo in diretta dalle ore 21, posso per far vedere la sfida finale? Esatto, il Paglio del Tiro alla Fune che era il paglio che organizzava la Pandolfaccia 15 anni fa, quello è un altro evento importante e sarà in diretta su Fano TV, vi invitiamo a venirlo a vedere dal vivo, ma chi non si può spostare chi vuole, grazie a Fano TV, andremo anche fuori da quest'arena e porteremo il Medioevo in tutta la città. Grazie davvero per questo approfondimento, quindi non perdetevi il Paglio delle Contrade. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.